Che se lo tieni con l'aria che tira, perdi ancora più soldi, esattamente come hai perso i soldi di gente che lui non ha valorizzato. Quindi non si tratta di fare un bagno di sangue, si tratta dal mio punto di vista di non fare un bagno di sangue tenendolo. Perché se tu fai mente locale, ha schierato... Quante partite ha giocato la Juve in due anni? Ha giocato 90 partite? Ha schierato 88 formazioni diverse, non ha avuto mai un'idea, non ha avuto mai un concetto, non ha valorizzato quelli che sono stati pressi per lui e da lui, tipo Vlaovic. Quindi non è più i due anni, io vado oltre questi due anni, li ammortizzi in qualche modo, lo chiami e gli dici ascolta...